Il tutto tiene la parte. La parte tiene il tutto. L'ordine è disposizione secondo un concetto che produce regole. La proporzione stabilisce gerarchie. La simmetria determina la reciprocità tra le parti. L'euritmia vuole che ogni parte si riconduca al tutto. L'architetto produce ordine costruttivo per proporzione, simmetria e euritmia. L'architetto produce ordine costruttivo per proporzione. L'architetto produce ordine costruttivo per proporzione, simmetria e alimentazione. Grazie a tutti.